È difficile non parlare dell'arbitraggio, ma non perché abbia favorito loro. Loro l'hanno vinta meritatamente su due nostri errori, quindi nulla da dire alla loro vittoria, anzi sono stracorretti. Con loro non è che riesci a creare tante occasioni o a subirne tante, con loro sono partite stra-equilibrate. Questa è la quarta partita che abbiamo fatto, io penso che in queste quattro partite i tiri in porta, da ambo le parti sono sempre state poche, si decidono su episodi o su errori umani. Oggi è toccato a due errori nostri, anche in passata, anche in Coppa, loro passano per due errori nostri, fanno i gol che poi li portano ai rigori con due errori nostri. Complimenti a loro, sono primi, hanno vinto l'altro anno, in più si sono rinforzati, quindi c'è poco da dire. Rimango seriamente perplesso che una partita del genere, tra le prime due con un punto di distanza, venga arbitrato da... mai parlato di arbitri in tanti anni, veramente mai una polemica, io riesco ad avere problemi solamente con lui, è l'unico arbitro che non riesce a accontentare nessuna delle due squadre. Anche loro che hanno vinto si sono lamentati, io che perdo si lamenta, ma in tutte le partite che l'ho vista è così. Rimango molto perplesso proprio dall'atteggiamento, proprio da come approccia, proprio anche al riconoscimento, una supponenza veramente snervante.